Non solo nella notte di Halloween, lo spettro degli incendi da tempo si abbatte sulla provincia di Lecce e anche nelle scorse ore ha fatto tremare due comuni. A Presiccia Acquarica in via Adua, intorno all'una e mezzo, le fiamme hanno avvolto quattro auto di una famiglia, danneggiando anche uno scooter parcheggiato nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Le auto erano parcheggiate nel cortile privato dell'abitazione, al cui interno in quel momento non c'era nessuno. Durante il primo sopralluogo non sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile. Nonostante questo, le indagini per chiarire la natura del ruogo proseguono, anche tramite l'ascolto dei proprietari dei mezzi e la visione delle immagini della videosorveglianza. Dopo poche ore di tregua e caschi rossi in mattinata sono poi tornati in azione sulla provinciale che collega Alezio a Tuglie. Qui, nella tenuta La Baronessa, un cortocircuito partito da un'auto elettrica scatenato il fuoco che in pochi minuti ha avvolto balle di paglia e mezzi agricoli. La complessità dell'incendio ha reso necessari rinforzi, tra cui un autobotte e un mezzo attrezzato con dispositivi per la protezione delle vie aeree. L'incendio ha generato una densa coltre di fumo, che ha reso necessario il tempestivo trasferimento in un luogo sicuro di alcuni cavalli presenti nella zona. Le operazioni di spegnimento e messe in sicurezza dell'area sono andate avanti per tutta la mattina.